Per 8 pancakes serviranno 110 g di farina, 40 g di burro fuso, 110 ml di latte, 2 g di sale, 8 g di levito per dolci, 30 g di zucchero, un cucchiaino di vaniglia e un uovo. Iniziate mettendo l'uovo in una ciotola al quale aggiungerete il latte. Mischiate questi due ingredienti con una frusta. Aggiungete lo zucchero ed il sale e mischiate con la frusta per farli sciogliere. Aggiungete un cucchiaino dell'aroma che preferite, io in questo caso ho usato della semplice vaniglia. Setacciate la farina e il lievito all'interno del composto. Se avete timore che si possano creare dei grumi potete aggiungere le farine gradualmente. L'importante è mischiare energicamente con la frusta affinché non si creino grumi. Il composto da come potete vedere risulta abbastanza liquido, quando però aggiungerete il burro si addenserà leggermente. Aggiungete il burro fuso e mischiate. Riscaldate una padella e quando sarà ben calda abbassate la temperatura a fuoco medio. Dopodiché ungetela con del burro. Per ottenere una colorazione uniforme l'importante sarà togliere qualsiasi residuo di burro dalla teglia con un fazzoletto. A questo punto aggiungere all'incirca un mestolo del composto nella teglia. Il pancake inizierà a gonfiarsi. Quando sulla superficie inizierete a vedere delle bollicine allora è il momento di girarlo. Consumate i vostri pancakes caldi. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti!